Eh sì, una vicenda che vede il protagonista una famiglia, ma noi vogliamo continuare a parlare di famiglia e lo vogliamo fare con l'ospite che ci ha appena raggiunto, buon pomeriggio a Stefania Gaiotto. Allora Stefania, non voglio anticipare nulla, vorrei che tu ci raccontassi questa bella storia di famiglia. Cominciamo dall'inizio, non voglio, come si dice adesso, spoilerare quello che è successo, ma cominciamo dall'inizio. Tu dove sei nata? Io sono nata a Noventa Vicentina, provincia di Vicenza. E sapevo già di essere adottata, perché sono stata in orfanatrofio fino a cinque anni. Ecco, tu i tuoi primi anni l'hai vissuti in questa casa, adesso vedremo una fotografia. Esatto, è il mio primo anno. Il tuo primo anno di vita, è piccolissima. Esatto, avevo un anno di vita praticamente. Quando i servizi sociali appunto hanno portato via te e i tuoi fratelli e sei andata a stare in un orfanatrofio. Sì, ci hanno smembrato praticamente. Ok, quindi i fratelli sono stati separati. Esatto, e quindi io sono finita in orfanatrofio a San Rocco a Vicenza e sono rimasta fino a cinque anni. Ok. All'età di tre anni. Me lo ricordo come fosse ieri. Praticamente vedo questi due signori che arrivano e io stavo giocando con un palloncino in mezzo agli altri bambini e mi hanno colpito queste due persone e soprattutto il papà che mi ha fatto un sorriso bellissimo scegliendomi praticamente. Ed è diventato il tuo papà adottivo, sono diventati i tuoi genitori adottivi. I miei genitori adottivi che dopo però ci è voluto due anni per poi andare definitivamente con loro. Una bella infanzia, un'infanzia felice. Sono stati i genitori stupendi. Una vita felice. Sì, non mi hanno fatto mancare niente, neanche la voglia di andare alla ricerca. Magari qualcosa c'era, però stavo troppo bene con loro, non mi hanno mai fatto mancare nulla. Perché loro ti hanno sempre detto che erano i tuoi genitori adottivi, non i tuoi genitori naturali. Quindi io questo lo sapevo, non ho mai voluto fare domande, soprattutto la mamma per non ferirla. Stiamo vedendo una bella foto di famiglia con la tua mamma e il tuo papà, un compleanno? Era il mio primo compleanno con loro da praticamente quattro mesi che ero insieme con loro, definitivamente. Ed è stata una festa per farmi conoscere a tutti i parenti. Una sorta di presentazione, no? Sì, a tutti i parenti. E quindi una vita felice, una vita serena, un bel giorno tu decidi di traslocare. Un anno e mezzo fa. Di circa un anno e mezzo fa. E che cosa succede? Succede che prendendo, raccogliendo le cose della mamma, gli abiti, mi scivola questa cartellina. Ah. Vediamola, vediamola. E questa cartellina c'è scritto Stefania, documenti tribunale. Ah. E lì... Sei stata lì per non leggerla? No, 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 mi è andato via il fiato completamente. Hai capito che questa cartellina poteva contenere la risposta? Esatto. Quindi l'ho aperta e qui dentro c'era il mio vero cognome da parte del padre, c'era il mio nome che è rimasto Stefania. Cognome che tu non conoscevi fino a quel momento, tu sapevi solo il tuo cognome, diciamo... Esatto, dei genitori edottivi e basta. Qui c'era il mio vero cognome, quello del padre. E lì mi si è smosso qualcosa che veramente è indescrivibile. Quindi cosa ho fatto? Io e il mio marito abbiamo fatto una ricerca. Sei andata alla ricerca delle tue origini, della tua vera famiglia. Sì, e abbiamo scoperto il nome e cognome dei veri genitori e mi avevano detto che la mamma era sepolta a Poiana Maggiore. Lì ho voluto andare a vedere la tomba e quindi c'era anche vedere la mamma. Mi ero accorta che era una tomba messa appunto in ordine. Quindi hai pensato che ci potessero essere delle altre persone, qualcuno che si prendeva cura di questa tomba. Quindi fratelli, sorelle? E che cosa hai scoperto? No, fratelli e sorelle, perché io non mi immaginavo di avere fratelli. Pensavo che ci fosse qualcuno. Quindi cosa ho fatto? Mi sono decisa e ho voluto parlare con la mia mamma adottiva, ormai novantenne. Mi c'è voluto un bel coraggio perché sapevo che gli avrei dato forse un dolore chiedendoglielo. Invece mi ha sorpreso lei e lì mi ha detto appunto che venivo da questa famiglia un po' disagiata e che ho cinque fratelli. Immaginatevi che emozione. Una famiglia improvvisamente allargata. Abbiamo una piccola sorpresa per te. Perché al telefono c'è tua sorella, tua sorella Ambra. Oh mamma mia. Ambra, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ambra, ma voi sapevate di avere questa sorella in più? Sì, sì, io lo sapevo, però... Però no, no. Non vi eravate mai incontrati? Non sapevamo chi fosse? Non ci eravamo mai incontrati, purtroppo perché io avevo dieci anni allora e lei un anno appena, quindi poi non ci siamo più visti. Ciao Ambra. Ciao Stefania. E senti, quando vi siete visti la prima volta? Beh, lì non si può descrivere. È stata un'emozione... Indescrivibile. Allora la voce rotta dall'emozione. Stiamo tentando di cercare le somiglianze, ma alla fine Stefania, a chi assomigliavi degli altri fratelli sorelle? Ad Anna. Ad Anna. Ad Anna assomiglio molto. C'è nella foto dove siamo in tre, mi pare, e lei mi assomiglia molto. Però abbiamo tante cose... Ecco io. Cioè, rivederci... Quando io guardo loro e anche i fratelli, abbiamo tante cose, tono di voce, dei gesti... Certo. Che fa impressione questa cosa? Senti, adesso dovete recuperare il tempo perduto. Direi. State spesso insieme, sì. Beh, spesso no, quando si può, però insomma quando si può si sta in qualità. Si sta insieme in modo... in qualità. Io voglio chiedere alla dottoressa, dottoressa, questa voglia di conoscere le proprie radici è umana? Sì, assolutamente. È proprio un istinto naturale dell'essere umano, che è quello proprio di riscoprire la propria storia d'origine. E quasi tutte le persone che sono state adottate compiono queste ricerche, se non l'hanno saputo da piccolini in età adulta. Perché è proprio un desiderio di ricongiungersi con il passato e di chiudere i cerchi. Naturalmente senza nulla togliere, immagino, ai genitori che hanno cresciuto, Stefania, che sono stati... Assolutamente. Anzi, anzi, io da quando ho saputo le loro storie, io adesso mi risento ancora più fortunata, ancora più grata. Infatti mia mamma, proprio oggi venendo in treno fino a qui, mi ha proprio ringraziato di aver fatto questa ricerca. e si vede che adesso io gli voglio ancora più bene, perché ho saputo quanto hanno sofferto loro. E io... Ti senti fortunata? Fortunata è poco. Mi penserebbe dare un messaggio a tante persone come me di poter avere il coraggio di farlo. Nel bene, ma anche nel male, perché io quando andavo alla ricerca di loro, non sapevo dove... Certo, un po' di timore c'era. Certo. Ambra, grazie, grazie per essere stata con noi al telefono, ringraziamo ovviamente tu. Ciao, Ambra! Grazie, tutto questo per una cartellina, insomma, che immagino verrà messa in una cornice. Una bella storia. Grazie, dottoressa Cenci, per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.